la bandiera olimpica cosa rappresenta e come è nata la bandiera olimpica è composta da cinque cerchi di diverso colore sullo sfondo bianco i cinque colori rappresentano i cinque continenti verde per l'europa blu per l'oceania nero per l'africa rosso per l'america giallo asia anche se devo dire il vero vi sono alcune differenze sui colori e alcuni indicano il verde per l'oceania e il blu per l'europa malgrado le differenze possiamo dire che i colori rappresentano i cinque continenti come è nata la bandiera la prima volta che è stata presentata è stata presentata nella rivista olimpica nel 1913 l'insegnatore è stato lo stesso de Coubertin il barone che promosse la realizzazione delle prime olimpiadi moderne si pensava di presentare il simbolo nelle olimpiadi del 1916 purtroppo lo scoppio della prima guerra mondiale fece scrittare la presentazione del simbolo olimpico al 1920